Un tuffo nel fascino del vintage in una suggestiva cornice, la chiesa di Sant'Ignazio, un vero e proprio gioiello ancora poco conosciuto dalla città di Arezzo. E' così tornato Arezzo a selezione vintage, un viaggio del tempo attraverso abiti, oggetti e atmosfere di un'epoca passata. Siamo riusciti attraverso le istituzioni e le fondazioni ad avere questo nuovo spazio, che è la sala Sant'Ignazio, che è un'ex chiesa sconsacrata, molto affascinante all'interno, tutto bianco e stucchi e parti dorate. Devo dire che anche le cose vinte ci stanno benissimo, come appare dalle immagini sicuramente. Questa nuova sfida è l'obiettivo di portare la gente dalla fiera qui, che il passo è abbastanza breve, però insomma dobbiamo farlo. Quanti espositori? Da dove vengono? Sono una ventina, vengono da Firenze, da Arezzo, da zona limitrofe, qualcuno da Siena, da Roma, eccetera. Uno shopping diverso dall'ordinario, ma sempre più ricercato. Ma perché è un modo per rimettere in circolo degli oggetti, delle fantasie, delle suggestioni del passato anche. La qualità c'è sicuramente, le cose di una trentina di anni fa sono fatte in un certo modo, magari con delle tecnologie diverse, però i materiali ci sono, insomma.